salve a tutti e allora andiamo a vedere una modifica da fare sulla testata del 500 però andiamo a montare quella del 126 di 650 quindi per un motore 650 andiamo a vedere alcune modifiche da fare come riporto sede oppure sostituzione delle guide in questo caso qualcuno mi aveva chiesto se andava facendo un monocondotto bene su una testata aveva le stesse prestazioni di un 700 sdoppiato come condotte andiamo a vedere che in quello sdoppiato va a funzionare bene perché abbiamo a livello di condotti abbiamo meno curvature rispetto a una tradizionale testata in questo caso anche se in questa si potrebbe andare a fare una modifica proprio per avere un po i condotti più dritti quindi evitare le doppie curvature che vanno a rallentare il flusso di riempimento dentro la camera del cilindro della testata però in questo qua andiamo a vedere un po le modifiche che vengono fatte e altra cosa importante da valutare che in base alle prestazioni che andiamo a cercare con il tipo di carburatore e il tipo di albero a camme che andiamo a montare alcuni tipi alcuni tipi di lavorazione come valvolo oppure andare ad avere una sezione di condotte più ampia a volte non va a guadagnare sulle prestazioni del motore proprio perché le valvole stesse anche i condotti sono molto più ampie rispetto a quello che ne richiede il motore quindi dobbiamo accoppiare un po le valvole e condotti in base alle prestazioni che vogliamo avere sul motore altrimenti o funziona bene in basso oppure funziona soltanto in alto questo quindi questa è una cosa che dobbiamo valutare è inutile fare delle valvole ampie dei condotti ampi se poi andiamo a montare un piccolo carburatore quindi dobbiamo valutare con che carburatore intanto dobbiamo camminare in base alle prestazioni che vogliamo questa è una cosa da andare a valutare prima e andiamo a vedere un po da vicino che cosa andiamo a fare come tipo di lavorazione e poi in questo caso farò un controllo di flussaggio ma dopo dopo andare a raccordare un po i condotti anche perché su questo tipo di testate c'è poco da andare a allargare come condotti o per lo meno in alcuni punti non va nemmeno toccato il condotto va soltanto sempre le pareti o pallinate con le microsfere oppure raccordate con la tela grana grossa come faccio in questo caso proprio perché già le sezioni in alcuni punti già sono più ampie rispetto a quello che dobbiamo avere quindi se andiamo a allargare le sezioni di passaggio della sede valvola raccordiamo soltanto quella parte finale anche perché ripeto sulla sia sullo scarico che sull'aspirazione vanno lavorate soltanto in alcuni punti e quindi uno è opposta all'altro anche perché l'unico l'unico punti che dobbiamo soltanto raccordare un po di più sono nelle sezioni di passaggio dove vanno a fare le curvature ai condotti nel senso che se dobbiamo agevolare la curvatura del flusso per arrivare meno disturbata dentro la camera nelle curvature dobbiamo leggermente aumentare la sezione di passaggio proprio per agevolare il flusso a cambiare direzione più che altro che questo è nello stesso tempo avere le pareti abbastanza ruvide per mantenere il flusso attaccato alla parete altrimenti si distacca nella curvatura e va a restringere la sezione di passaggio del condotto però andiamo a vedere intanto alcune modifiche che vengono fatte poi alla fine andrò a fare un controllo di flussaggio sulla testata proprio per avere un riferimento e allora ecco qui la testata con le due valvole che sono modificate nel senso sono con stelo 7 in acciaio quindi sono riprofilate anche come tipo di valvole e quello che andiamo a fare visto che in questo caso andiamo a montare lo scarico 30 e l'aspirazione 35 andiamo adeguare le sete valvole quindi si va a mettere gli anelli maggiorati è l'unica cosa che dobbiamo fare andare a raccordare questi punti in base alla misura delle valvole che andiamo a mettere quindi se andiamo a mettere delle sedie per lo scarico da 30 andiamo soltanto a ripulire qui la raccordatura vicino sotto sede valvola le guide in questo caso sono da 7 mm e sono un bronzo speciale che sono le guide del lancia delta integrale quindi in questo caso si sono messe queste risultano leggermente più corte abbiamo leggermente meno ostruzione sul condotto anche se poi andrò a raccordare all'interno le sezioni di passaggio per la saldatura che vedete in questo caso è perché poi per arrivare al tipo di il rapporto di compressione andiamo a togliere come spessore sulla testata almeno un millimetro due millimetri per arrivare al volume desiderato sulla camera quindi in base a quello che dobbiamo andare a fare come volume normalmente part si andrà a togliere due due e mezzo come spessore qui quindi dobbiamo fare questo tipo di lavorazione sul sulla sezione di passaggio sullo scarico come come dicevo già sullo scarico abbiamo all'uscita una sezione che già va a uguagliare il diametro esterno della valvola quindi non c'è tanto di andare ad aumentare la sezione all'uscita ma soltanto raccordare qui l'uscita almeno dagli andare a togliere il grezzo del laterale che abbiamo sul condotto e fare le pareti con una leviatura leggermente più lucida rispetto all'aspirazione che in questo caso la dobbiamo andare a ruvidire le pareti all'interno è l'unico punto da potere aumentare di passaggio sull'aspirazione e questo punto qui per agevolare il flusso a deviare verso il condotto che va a funzionare e l'altro punto che dobbiamo raccordare sulla testata sull'aspirazione non è altro che adeguare la parte che va a curvare dentro sulla sezione del condotto in questo caso qui possiamo andare a togliere l'ostacolo della guida come andremo a fare invece sullo scarico questo questa parte qua non la dobbiamo andare a lavorare proprio perché il flusso tende ad andare verso la parte superiore del condotto e dobbiamo raccordare la parte dentro dove c'è la guida per agevolare il flusso all'uscita queste sono le parti dove dobbiamo andare a lavorare anche perché sull'aspirazione già come sezione di passaggio già ci siamo quindi andando a togliere se vogliamo l'ostacolo della guida ne abbiamo già abbastanza come sezione di passaggio come direzione come dicevo ci sarebbe una modifica da fare per chi vorrebbe avventurarsi andare a portare questa leggermente più larga quindi sfruttare saldando pure la testata per fare un monocondotto più dritto quindi in questo caso qui questa parte qua verrà riempita saldata da una parte dall'altra ed avere un passaggio leggermente con un ovale più ampio per sfruttare un collettore addirittura con uno di questi volendo qualcosa di questo da adattare sulla testata questo è per la panda 30 anche quello del monocondotto si potrebbe utilizzare per avere un'agevolazione in più qui nel senso che andiamo ad avere meno istruzione per agevolare il flusso ad andare a fare meno curvatura possibile queste sono le guide quelle da 7 mm del lanciata alta con il paraoleo già messo questo è un lavoro che si può andare a fare d'accordo quindi andiamo a raccontare un po i condotti vediamo poi il lavoro finito come si va a comportare anche sulla base che poi andiamo a rettificare le sete e facciamo una prova di flussaggio sulla testata e allora finita di flussare la testata andiamo a vedere un po i dati di lettura sia di scarico che di aspirazione e poi andiamo a vedere un po la testata definita quindi con le lavorazioni fatte e di quello che è stato fatto e allora ecco qua i dati di lettura dell'aspirazione poi ho fatto un ulteriore modifica anche sulla camera per vedere se si andava un po a migliorare invece si è andata un po aperte sia nelle basse che anche sulle alzate massime quindi ho voluto provare una configurazione di camera diversa proprio perché in base alla seconda lettura che ho fatto nel senso contrario sull'aspirazione avevo dei miglioramenti quindi volevo valutare se erano sull'aspirazione ma bisogna un po studiare qualche camera un po diversa per questa configurazione è il tipo di geometria della valvola va bene questo tipo di andamento della camera per questo tipo di di comportamento quindi la valvola va incidere pure sul comportamento della della geometria della camera quindi se andiamo a modificare una dobbiamo modificare anche la camera invece sullo scarico ecco questo è il funzionamento dello scarico nel senso giusto vediamo che andiamo un po ad uguagliare i dati dell'aspirazione quindi anche con la miscela che poi verrà bruciata i dati dello scarico un po vanno a funzionare bene quindi va bene questa configurazione quindi andiamo un po a vedere i dati in cfm sia della portata dello scarico dell'aspirazione ecco qua allora l'aspirazione quella in blu andiamo a vedere un più miglioramento giustamente sull'alzata sia per la valvola più grande anche per la sezione dei condotti e la media quella dello scarico nello stesso tempo possiamo dare anche una valutazione quindi queste le andiamo a prendere come riferimento anche per un monocondotto dire che se andiamo a montare un collettore sdoppiato possiamo aumentare la sezione superiore qui dove va un po ad accoppiare nei due condotti della della testata quindi ci sarebbe di andare a lavorare come area di passaggio proprio per agevolare il cambiamento di direzione del flusso quindi per agevolare un po andiamo ad avere una sezione più ampia di passaggio e allora ecco qua l'imbocco della testata del collettore se andiamo a a montare un doppio corpo abbiamo bisogno di andare a togliere questa parte di testata per agevolare l'entrata del flusso anche perché dobbiamo mantenere sempre la testata leggermente più grande rispetto al collettore quindi possiamo sfumare qui lo spigolo sulla testata anche perché qua andiamo a montare delle rondelle più piccole con un dato da 14 quindi lo andiamo a modificare il dato che va sopra qui per ulteriormente lavori dentro il collettore abbiamo visto la parte ruida di andare a secondare il passaggio sulle pareti dall'altra parte andiamo a vedere che sulla camera in questo caso già le guide sono state montate un po leggermente più basse andiamo soltanto a lavorare le pareti questa parte sullo scenario non lo andiamo a lavorare ma soltanto raccordare perché abbiamo aumentato la sezione della sede e l'aspirazione uguale questa parete invece non andiamo a lavorare ma andiamo a lavorare soltanto la parte da questa parte dove andiamo ad agevolare l'entrata del flusso sulla parete che andiamo ad aumentare di passaggio qui lo stesso in questo caso ho dovuto togliere la guida ma ci sarebbe da vedere che si può leggermente arrotondare raccordare un po e non andarla a togliere un po tutta con queste modifiche di guide più basse che sono quelle del lancia delta abbiamo detto come sezione di passaggio lo scarico andiamo a lavorare soltanto laterale in questa parte frontale del flusso anche perché va a comandare un po la raccordatura della valvo sia di scarico e di aspirazione per il discorso dello scarico andiamo a vedere che già come uscita come abbiamo visto già è ampiamente la sezione di uscita quindi la manteniamo in questo caso leggermente più stretta per non avere ostacolo all'uscita sulla su collettore quindi andare a creare un antirritorno dei gas di scarico dentro il condotto del della testata soltanto di andare a modificare poi nella parte finale volendo il volume della camera e vedere se dobbiamo in questo caso già è stata ribassata di un millimetro e mezzo no 1 e 8 quindi andiamo a valutare se dobbiamo ancora ribassare per arrivare al volume desiderato